ebbene carissimi amici ancora ben ritrovati qui sul mio canale youtube una buona giornata a tutti voi un buon inizio di settimana ebbene quest'oggi parliamo ancora di miei grandi software cari amici un aggiornamento su quale che sono stati gli esiti proprio delle ultime estrazioni e dai miei software arrivano sempre grandi vincite sono prodotti fantastici e arrivano terni secchi a raffica è il caso di spia magica e vi voglio dire che questi software non è che li ho presentati l'anno scorso o due mesi fa questi software hanno anni sulle spalle trovate in giro dei prodotti che hanno 7 8 5 6 anni che vi pagano il terno a ruota non so se ci sono questi sono programmi che non ho mai aggiornato sono sempre gli stessi gli algoritmi e la base sono sempre gli stessi non cambiano mai e quindi ancora una volta spia magica addirittura è un programma che gioca su unica ruota di gioco quando esce una determinata spia su singola ruota vi gioca otto ambi e due abbinamenti per abbinare per diciamo tentare di realizzare il terno bene queste vincite sono del 12 ottobre 40 secco a venezia anche in quinta posizione quindi anche il gioco di ambata molto interessante perché un numero una ruota due posizioni determinate ambo secco 40 55 e terno secco 40 55 83 perché si abbina guardate al 40 55 l'83 e e quindi terno secco sulla ruota di venezia all'ottavo colpo previsione elaborata in data 28 settembre questa è stata una vincita e poi vi parlo del fantastico software spia maestosa allora pensate soltanto che questo programma è stato il primo programma presentato dal sottoscritto nel 2016 2016 cari amici quindi parliamo di sette anni fa un programma che ha continuato sempre a pagare grandi vincite questo è un software che dovreste avere tutti in mano perché è un programma che alla sortita della spia 90 su qualsiasi ruota il software vi consiglia una previsione composta da un estratto quattro abbinamenti ambo e due per terno su due ruote adesso vi faccio vedere cosa ha combinato e questo vi fa capire la forza dei miei programmi sia per ambata sia per ambo sia per terno consigliava il capogioco 60 perché poi vi va a consigliare delle giocate molto forte capogioco 60 guardate esce al secondo colpo a cagliari al terzo colpo a bari poi di nuovo esce al quarto colpo bari ea cagliari rispettivamente ma bari da il 60 87 il primo ambo e si abbina il 69 60 87 69 e da il terno secco al quarto colpo sulla ruota di bari quindi un altro bellissimo esito dal mio software spia maestosa cari amici quindi spia maestosa e spia magica pagano entrambi il terno secco ad ottobre 2023 quindi vi consiglio caldamente l'acquisizione o del singolo programma perché avete in mano delle previsioni generate veramente molto forte sia perché il gioco a lambata se per chi gioca per sorti superiori avete delle previsioni in mano molto potente quindi contattati via whatsapp 348 75 47 715 numero che trovate sempre in descrizione in ogni mio video per avere informazioni su come acquisire o il singolo software oppure il pacchetto che molti hanno preso promozionale con i 10 software tengo a precisare che questi programmi voi li prendete oggi e vi valgono per sempre sono sempre vostri e saranno sempre vincenti non verrò mai a dirvi paghiamo di nuovo per la giornata aggiornamento 2024 2025 2026 non ci saranno aggiornamenti il software spia maestosa per esempio è nato così nel 2016 ed è rimasto così e paga i terni secchi cari amici un software che vi paga i terni dopo sette anni voglio vedere proprio quale metodo quale software riesce a realizzare dei risultati del genere quale software che ha sette anni sulle spalle riesce a realizzare un terno secco vero a ruota documentato questo è un terno vero cari amici perché il software che lavora la previsione del 5 ottobre questo è un terno vero è un terno nero su bianco questi sono risultati reali quindi sono prodotti assolutamente da non perdere quindi mi raccomando vi attendo in privato via whatsapp e vedrete che vi porterò ancora grandissimi risultati per adesso saluto a tutti mister spangolotto